Solo mischia il miele col caffè, la tua pelle sarà super 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 pulita e senza rughe. Benvenuti sul canale, prima di iniziare iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato, lascia un commentino qui sotto, fammi sapere di che video hai bisogno e da che provincia stai guardando. Allora, oggi facciamo uno scrub per il rinnovo cellulare, che quindi mantiene la pelle elastica e aiuta a dare una nuova stimolazione di cellule, quindi a creare tra virgolette cellule nuove, e a togliere quelle vecchie. E così la nostra pelle sarà più giovane a lungo, il più possibile, per quanto ci riusciamo. E andiamo a utilizzare il miele, che è un super idratante naturale, e il caffè, che in realtà svolge in questo caso un'ottima funzione scrabbante e quindi ci può essere d'aiuto. Iniziamo subito. Allora, per prima cosa ovviamente prendo il caffè. Ne prendiamo un pochino. E poi vado a prendere il miele. Questo qua è il Millefiori, ma potete utilizzare qualsiasi tipologia di miele che avete a casa. Vado a rinescolare. Creo questo scrub. Questo scrub lo vado a massaggiare sul mio viso, ma anche sul mio collo e sul del coltè. In questo modo andiamo a, tra virgolette, rinnovare la pelle di tutte le parti del nostro corpo. Questo è tutto. Spero di essere stata utile. Un bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!